L'ondata di calore che in questi giorni sta investendo anche Bologna potrebbe nei prossimi giorni allentarsi, diventare dunque meno pressante, intanto i sanitari fanno i primi bilanci e almeno da questo punto di vista sembra non ci siano grossi problemi. L'ondata di calore così come annunciata dalla protezione civile arrivate ci tiene compagnia da più giorni. Le preoccupazioni riguardavano soprattutto le cosiddette categorie a rischio anziane in testa, tuttavia non si registrano incrementi negli accessi al pronto soccorso dell'ospedale maggiore per le due fasce di popolazione sotto sorveglianza sanitaria, quella degli over 65 e quella degli over 75. L'ho reso noto l'apposito centro di monitoraggio istituito dal Dipartimento Sanità Pubblica della USL di Bologna, situazione analoga anche per quanto riguarda i ricoveri che nei primi giorni di sorveglianza a partire dallo scorso luglio hanno fatto anzi registrare una riduzione del 6% per tutte e due le classi di età sorvegliate. Sono invece aumentate le chiamate al 118 rispetto a quanto previsto inizialmente dai sanitari, con un picco raggiunto lo scorso 11 luglio. Mediamente una ventina di chiamate in più al giorno, ben assorbita però dal potenziamento dei mezzi di soccorso messi a disposizione.